E' nato Adottiamoli.it, il portale per le adozioni. Sono 600.000, secondo le stime dell'Associazione Gaia Animali Ambiente, i cani che languono dietro le sbarre dei canini italiani. Dei gatti non sappiamo neanche la cifra, ma sono tantissimi anche loro. Non sono numeri, sono storie, sono esseri viventi che cercano nuove famiglie. Per fortuna molti cani e gatti vengono adottati. Artù è uno di quelli fortunati. Però ce ne sono ancora tantissimi che hanno bisogno di voi, quindi adottiamoli i cani e i gatti. Pezza Inversity ha creato il portale Adottiamoli.it Finalmente è un modo per fare incontrare le tante persone che cercano un cane e un gatto da adottare con i tanti animali presenti nei canili, nei gattili e nei rifugi di tutta Italia. Finalmente è un modo per rendere felici tante persone e tanti animali che hanno una vita sfortunata. Andate su Adottiamoli.it Adottiamoli.it Adottiamoli. Adottiamoli. Adottiamoli.it